Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, io sono Astro 2.0 Oggi siamo tornati su Fortnite nella Season 9 insieme a Loop 11970 01970 Sì dai è uguale Sì, c'è il piccolo problema che non ci carica la partita Boh io prima ho fatto creativa e mi ha partito No, è partito, è partito Ah, sì è ok, è partito Io l'ho già vista un po' la mappa Io la mappa l'ho già vista un po' Sì anch'io, io non tutta proprio Sì ma l'ho vista anch'io Adesso ragazzi vediamo A me non mi fa tanto entusiasmare A me è un botto Pinnock Vabbè, vediamo Ascalini Ma no, aspettami Aspettami Ok, andiamo No, seleziono la squadra Ma no, ma chi se ne è la squadra? Non serve Ok, no, ma perché magari facciamo Ti prego fa che non log che se no qua è la fine del mondo Vabbè, raga qua Ragazzi, queste qui praticamente per chi non lo sapesse ancora Che magari non ho ancora il tempo di giocare Sono delle isole Queste qui che si trovano Sì dai fai quello che c'è E sono delle isole C'è un modo per scendere Cioè se voi vi mettete qua raga scendete così Se vi schiantate con la faccia per terra non succede niente Morite solamente No, non morite E se state fermi Eh, cosa aspettami E non si fa questa cosa che sto per ripetere Eh sì, meno male che non si fa Eh, meno male Allora io vado così Si fa Ma cosa fai? Cosa stai facendo? Oh, andiamo su quel coso Quel coso lì Ah no, ci ho già provato io più ma non Non cambia Mi quanto mi lagga A me piacciono molto I camion e come la struttura Li hanno fatti bene per me Sì, hanno fatto male la lava Dovrebbe essere che non ti fa danno Perché mi Mi sono perso A me fa danno Tipo una trentina di Eh, anche a me Vabbè, ho trovato una slupo Però a me continua a laggare Oh mio Dio Perché quando devo registrare un video mi lagga? Che noia No, poi Non mi è capitato che stavo giocando Vabbè ragazzi adesso andiamo No, è vero che parlano Non sono i paracaduti Oh, le parole Ah, sto per cadere anch'io Stavo per cadere anch'io come un bravo Sì, ok Ma quanto mi lagga sto schifo di gioco No, vabbè Io non ce la faccio giocare E questo qui sarebbe la mappa Cioè qua come vedete Allora, tanto tempo fa dicevano che sarebbe stato introdotto un teno Invece adesso siamo noi il teno Passiamo, giriamo noi per la mappa Non il teno Eh, più o meno Cioè siamo lì Cioè il treno Con il fatto siamo più o meno lì Siamo treni volanti Adesso andiamo a vedere Corso Commercio Che andiamo con i nuovi condotti Non so come chiamarli Ma li chiamo condotti Devo utilizzare l'acqua per ammazzarmi Stiamo a posto Perché? Vabbè Io prendo sti Eh, perché la bellissima Epic mette questa bellissima lava Se voi volete andare su questo basta che vi buttate così E rimanete così Oppure ci sono delle pade Sì, ci sono tipo Ah, stavo non so che ci sono le pade Sì, tipo fermate ci sono Sì, l'hanno fatto stra bene sta parte Io ho sprecato più di 2000 anni Qua c'era una fermata così Qua c'era una fermata Almeno ve la facevo vedere Cos'è sta roba? Vabbè è possibile No, ma non è possibile Ma sto gioco fa schifo Qua ci sono le macchinette E questa qui è tipo una fermata Voi andate qua e vi porta Dove ci avete voglia Ok È morto a posto Volevo che moriva No, ho 35 di vita io Ho 35 di vita E questa qui è corso con me Commercio Modificato Tutto il suo sputore Oh, medikit Madonna Che vista Raga E questa qui È col suo commercio Cambiato tutto Oh, io ora sto Sono alla base Sì, ok Ti vedo Se magari non prendo Sti cosi Cioè Ok Allora Vi stavo dicendo Che a me Mi piace molto Abbastanza La struttura delle macchine Cioè Sono carine Però Sta macchina Sembra che Questo qui è il di dietro Invece è il davanti Però Sono particolari Ma che mi serve Basta che faccio Di generazione Ma cosa faccio vedere L'ho già fatto vedere La base Già fatto Oddio Ma io sono Pro in sti cosi Sì È diverso Non è che Sempre Lo sai che così Giri solo per Boschetto Cioè Non Boschetto Sbagliato Borgo Ah no Ma hanno cambiato Il nome Si chiama Megal Bo No Megal Mal Sì perché Mol Sì si dice Mol Sì perché Hanno aggiunto Il supermercato Eh sì E quindi hanno cambiato Il nome Picco Porare Guare Ah Non avevo notato Che pinnacoli Si chiama Adesso Neoclinata No Adesso Cioè Tipo Uno dopo Si deve buttare Uno dopo Deve dire Eh Buttiamoci a Neo Che nome è Poi Neoniclata Che nome è Cioè Vabbè Si è abituato A dire pinnacoli Eh sì In effetti Adesso Vediamo Andiamo A pinnacoli Con i condotti Questi qui Li chiamo Io arrivo Sì intanto Mi sto facendo Un po' Il giro Della mappa Con sti robin No Non andare fuori Lo sai che Anche se stai fermo Si muove da solo Cioè tipo Puoi ammirare La mappa Ma che fì questa fontana Qua Qua siamo a Come che cavolo È Cioè L'andelletali Non metto sul mio canale Cioè sul canale Del team Però No Vabbè Ma noi Non ci dobbiamo Fermare Doppia velocità E Eh Giofi di parole Ma no Stai 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 Eh Sì E Purtroppo Boschetto È sempre Rimasto uguale Sempre Ghiacciato Come Purtroppo Boschetto E Perché Te lo volevi Lo vuoi Tenere Ghiacciato Guarda che Boschetto È questo No Io non ci ho fatto caso Che si sta sciogliendo Ma chi ha detto Che si sta sciogliendo Non ci sto capendo Più niente No Vabbè Ecco Chiudiamo Questo discorso Io intanto Vi faccio vedere Pinnacoli Ecco La fermata Io arrivo Pinn Io arrivo Pinn Tra 502 miliardi Di anni Poi si esce così Cioè basta andare fuori Ma dall'altra parte Del mondo Io ho preso i condotti Noi no Qua ci sono macchinette Quelle gratuite Che Non mi sembra Introdotta Si vede Che mi lag Ma poi a sto Non so se è un lag Però a me non mi va Il suono dei Dei materiali Quando li metto Il gioco che vibra Eh il joystick Che vibra Si lo so anche a me Ma mi fa senso Cioè Si lo so Non riesco Lo so anche io Se vuoi di cadere Qua possiamo Vedere la statua Che hanno fatto Cioè che hanno fatto Tanto Poi qua vi faccio anche vedere Che non si può rompere Oh mamma mia Quanto lag E' mio Intanto qua Vediamo un po' di Vediamo pinnacoli Dall'alto Però da questo visuale Ma io non ho niente Per arrivare Ah no Si C'ho i condotti vicini C'è una rigenerazione Tanto le cose Non ci servono Si ma perché mi fa fare il giro Jump E questa E' pinnacoli 2019 Un po' schifosa però Poi arriva lui Un po' schifosa però Ma scusa Poi mi hai detto Che era bella Si però Aspetta ma qua c'è un countdown Cos'è? Cos'è il countdown? E' la nuova torre Del orologio Eh No Aspetta Di qua non si vede niente No Che noia Ah posso No sta roba Se la spacca dopo Non posso più leggere i numeri Io non ho voglia Di perdere le mie cose Cioè Ma basta Tutto il loot è blu Ma chi serve il loot? E' buono lo so Eh appunto Però io Io lo faccio Perché Perché sono bravo Allora qua Mi sa che questo qui E' la nuova La nuova torre Del orologio Perché vedi che segna Lo radio uguale 13 14 15 Mi sa che Sì Sicuro Questa qui è la nuova torre Del orologio Gabbo La devi vedere È troppo bella Fa tanto bene Sì io non sono a malapena Pinnacoli Cioè Sì Quando arrivo La vedo Poi Cos'è che c'era Andiamo al burger No non c'è più il dataplanico È stupido Ah no ma non sono morto Che fastidio Quando sto gioco lag Ah Sti post Ah ma niente È vero Non c'ho materiali Ma io avevo visto Da una copertina Così da internet Che ci dovevano essere Gli alieni Ah bellissimi Gli alieni E te dove li vedi Gli alieni Hai visto un alieno Da nessuna parte Ok Sto dove si possono distruggere Abbiamo capito Io pensavo che in season 9 Potevano finalmente Aggiungere qualcosa Bello di arma Invece Aggiungono un bellissimo Pompac che è uguale Al tattico Più o meno Cioè sì più o meno Uguale Qua c'è un edificio Che si chiama L'AC Da quanto credo io Ah bello Ma se spacco la statua Quanto mi dà raga Zero Come zero allora Non la puoi spaccare Ah ok Allora hanno fatto La cosa giusta No che figata Questa televisione Cioè È tipo trasparente Però non mi posso Ce l'ho fatta Sono a Pinnacoli Sono a Pinnacoli Eh ok bravo Mamma mia Dopo due anni Ragazzi No È strabella Sto stato Io ci salgo sopra Eh Credo che ti fassi volare Sì è vero Mi aiuta Di no Ma dove lo vedi Scusa il bellissimo Te lo assegno Qua Dove c'era Pima Secondo te Sennò dove Quindi si possono distruggere i cosi E adesso Io cosa ti ho detto È buono Lo so Ma perché E muori Se costruisco Ah no Proprio ci vado in mezzo al burger Gabbo guarda Sono diventato il nuovo burger Della season 9 Aspetta eh Fammi guarda Guarda il burger Mi piace Mi piace Guarda il burger Guarda lo guarda Sì sì L'ho visto L'ho visto No no Guarda adesso No no L'è legato Tanto in ogni partita Respo C'è di sempre Sì ma era bello Ma perché costruisce così a caso Sto fortnite E che ne so io Va bene che un bel gioco Almeno bel gioco Cioè Allora raga Voi dovete sapere che fortnite fa schifo Perché Fortnite fa schifo Perché non ti metto Gabbo dopo mettono Non ti metti da caduta Ma sono io che li ho messi Basta ma Faitiamo Ma no Così facciamo vedere la mia navità al mondo Sì dai Ah ma i kart ci sono ancora Fammi salire Sì No me lo fai provare Per vedere Se l'hanno cambiato No Il kart mi sembra un po' uguale Oh dove vai dove vai Oh la mia auto Oh Guarda che c'è la Tommy Ma qua ci sono le pizze Le pizze Ah no non so più No non sono pizze Complimenti per la visione ottica Grazie grazie Lo so Infatti porto gli occhiali Ma oggi sono l'incluso Ciao No È schifo Ma cos'è Ma sto gioco è fatto con i piedi Io preferirei guidare questa macchina Al posto di guidare quella roba lì Mi piacerebbe tanto per andare a guidare il camion Molto carino No Beh Non tanti Troppi Cosa Amori Ma mi piacerebbe che Tipo il kart Vabbè Si ammacca Ti immagini? Vabbè quelle cose Beh fortnite Non è un gioco basato sui kart Sì è vero Però sarebbe straverso Vabbè con questo nuovo pinnacoli Che poi non è Non si chiama pinnacoli Ma si chiama Neo Neo Inclinata Neocoso Sì vabbè sta roba qui Il quartiere che mi sono dimenticato di farvi vedere Lo faccio Cavolo mi ero dimenticato No Eh vabbè tanto adesso Aspetta sto sto Ti posso dare Metto Faccio una torre Metto il porta forte Ti do il cecchino così Ma no Ma non mi serve Tanto ci vado così Sono già col paracadute Ma tu hai il paracadute ecco perché No non è che ce l'ho Sono morto Apposta Per poi Vabbè Ok adesso vi faccio vedere Il quartiere di Mac Che c'ha sempre i nomi strani Il quartiere Poi Adesso otterriamo qua Posso stare su queste robe Ok Come vedete In giro per la mappa Ci sono le paleoliche Molto carine Però non girano E adesso Andiamo a vedere Il quartiere E se guardi verso Neoi C'è qualcosa Vedrai una bellissima torre Con sopra un porta forte Però non è del gioco L'ha fatta L'hacker l'op Non sono un hacker Cioè più o meno No dai scherzo Non sono un hacker Cioè per asto si sono un hacker Sì Sì è una roba proprio Solo quando l'aghi Vabbè questo qui Ragazzi Oh stai avendo problemi Non mi funzionano le costruzioni Adesso funziona Ah era tipo bugato male Allora il quartiere Carino C'è uno yacht Gabbo Rispondi al telefono Anche te Ma no Ma tanto Poi c'è 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 Cosa Ok Raga Questa qui praticamente Sarebbe Il Io devo andare a Stocca Ok ciao Vabbè Ciao 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 Allora come vedete ragazzi Questo qui è il quartiere Che è tipo una villa Privata Bellissima E come vedete C'è anche Ma l'acqua è finta Cioè no Ce n'è poca Vabbè E come vedete Qua c'è anche lo yacht Che Vabbè c'è C'è Che contiene Una cesta Che lo basta Qua la continua A laggare Sto gioco E Con questo Lag Bruttissimo Ci possiamo Beccare In un prossimo video Di Need for Speed Che sarà Sicuramente Sabato Ciao a tutti ragazzi E ci vediamo In un prossimo video Ciao